Sulla flat tax va fatta e va fatta senza aggiungere un solo euro di più alle tasse degli italiani. Quanto al salario minimo, credo sia di buon senso dare degli stipendi dignitosi a quei lavoratori che oggi sono sfruttati e naturalmente di pari passo vanno tagliate le tasse alle imprese.